Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo di TV6, tempo instabile nel corso di questo giovedì a causa di un nuovo flusso fresco e instabile proveniente dal nord Europa che irromperà nel Mediterraneo e quindi darà vita a nuova instabilità, nuove nubi, acquazzoni e temporali a tratti di forte entità, specie al nord-ovest e nelle zone interne del centro Italia. In Abruzzo si prospetta un giovedì instabile, specie tra pomeriggio e sera. Ci aspettiamo l'arrivo di precipitazioni diffuse nelle aree interne in Appennino con fenomeni a carattere temporalesco e a tratti di forte entità a ridosso dei rilievi. Entro sera qualche fenomeno in estensione anche alle aree costiere, il primo entroterra nel Terramano, nel Pescarese, un po' più asciutto sull'Abruzzo meridionale. Temperature stazionarie massime tra 15 e 20 gradi, minime tra 6 e 12 gradi. Grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.